Però si parla da mesi che siamo senza illuminazione e dalle 5, adesso con l'ora che è cambiata pure e fa più buio, già verso le 5, 5 e 10, scendendo dall'inizio del parco giochi fino a qui esattamente non si vede nulla. Io faccio un appello, un invito ai sindaci del comune di Schia di Barano a farsi una passeggiata così dopo le 5, dall'inizio del parco giochi fino a questo punto, per rendersi conto di com'è la situazione. Nei giorni scorsi, con un dettagliato servizio giornalistico, denunciammo la pericolosità che nelle ore serali e notturne si registrava a causa della mancanza di luce dovuta ad un guasto alla pubblica illuminazione in via Montagna, la strada che parte dal comune di Schia e giunge sino a Barano, nella pineta di Fiaiano. Il tratto di strada dove da me si mancava la luce è quello che costeggia il parco giochi presenti all'ingresso della pineta. Ebbene, nello scorso fine settimana finalmente c'è stato il tanto auspicato intervento e ora la sera non fa più paura attraversare via Montagna. Antonio Tortora, che ai nostri microfoni aveva sollevato il problema e i conseguenti pericoli, ha voluto sottolineare come in pochi giorni il guasto sia stato riparato. Buongiorno Gennaro, ci tengo a ringraziare, naturalmente, vista la lamentela che è stata fatta precedentemente per le luci che non funzionavano vicino alla pineta di Fiaiano, a dire che stavolta all'amministrazione ha risolto il problema, sistemando definitivamente una situazione che sicuramente poteva essere pericolosa. Grazie, perché quando poi dopo le cose vengono fatte è bene, uno sa anche dire grazie.